Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Per chi segue gli aggiornamenti dal mondo delle notizie, il nome di Irene Pivetti risuona con particolare eco. Attualmente, è al centro di due importanti indagini legali. La Pivetti, celebre per essere stata, a soli 31 anni, la più giovane a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato, è ora sottoposta a indagini per presunte irregolarità fiscali. Le inchieste che la vedono protagonista sono legate all'importazione di mascherine dalla Cina e a un'operazione di esportazione di automobili Ferrari. Nell'ambito di quest'ultima, le sono stati confiscati circa 3,5 milioni di euro. Esistono momenti in cui ci si sente sopraffatti dalla realtà, quando la vita sembra frantumarsi, le relazioni familiari si incrinano e le difficoltà finanziarie diventano opprimenti. Questi sentimenti sono stati espressi con profonda sincerità da Irene Pivetti in un'intervista recente, dove ha condiviso le sue personali riflessioni in un momento di particolare difficoltà. Oggi, Irene Pivetti vive con una pensione di circa 1000 euro, affrontando notevoli sfide economiche. La sua attuale residenza è un semplice dormitorio situato vicino al ristorante SMC, una mensa sociale nel centro sociale di Via Tazzoli, a Monza, dove da poco ha assunto il ruolo di coordinatrice.